100.000 nuovi bulbi da piantare a Padova per raggiungere il traguardo di tre fiori per ogni cittadino. L'iniziativa, promossa dall'assessorato al verde pubblico del comune, è partita in questi giorni e i risultati si potranno vedere già tra qualche mese. Saranno i narcisi e i tulipani a colorare la città, come spiega l'assessore Ivorossi. La cosa interessante su cui abbiamo lavorato è quella di scegliere delle varietà che hanno una fioritura cadenzata nel tempo. Il progetto di una Padova più fiorita è nato nel 2005 con l'intento di piantare un fiore per ogni cittadino. L'anno scorso l'iniziativa si è allargata con l'interramento di altri 250.000 bulbi. Con quelli di quest'anno si raggiungerà quota 600.000, quindi tre fiori simbolici per ogni padovano. Abbiamo scelto di mettere a dimora questi 100.000 bulbi lungo via Tiziano Aspetti, via Guidoreni, cioè il percorso del tram.